Cerchiamo di essere un po' critici in alcune circostanze Voi non conoscete quest'idol, quindi non potete sapere se è veramente un angelo o se è una... Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video Allora, questo è un video... Ha fatto uscire un video ieri e non vedo perché sto facendo un altro video In realtà c'è un motivo, un motivo anche serio Che è tutto quello che è successo con Irene delle Red Velvet Devo dire che sono ancora un po' scioccato dalla notizia Ma neanche troppo perché alla fine c'è sempre questa tendenza di mettere questi idol su un piedistallo E poi ci si sorprende quando invece si rivelano essere un po' diversi magari da quello che le persone si aspettavano Prima di fare questo video volevo dirvi a tutta la gente che mi segue per i contenuti sul Giappone Che pubblicherò nuovi video sul Giappone tutti lunedì Mentre il giovedì ci saranno dei video principalmente sulla Corea Ancora non ho deciso Se usciranno dei video in altri giorni saranno video più random su altri argomenti di quello che mi va di parlare In ogni caso se mi seguite per il Giappone guardatevi solo i video del lunedì Alle ore non ho ancora deciso se è l'1.45 alle 2 Comunque intorno a quell'orario potrete vedervi un video sul Giappone Quindi spero che sarete contenti che finalmente sono tornati i video sul Giappone Devo dire che con tutto quello che è successo forse non sarebbe il caso che io parlo delle Red Velvet Però mi sembra un discorso interessante di cui vorrei discuterne con voi Sono sicuro che se parlerò di questo argomento chissà ci sarà qualcuno che avrà da ridire Però secondo me è una notizia che ha fatto molto discutere e parlare nelle ultime ore Quindi secondo me è importante parlarne In ogni caso prima di iniziare lasciate un mi piace se vi piacciono i miei video E condividete, commentate se volete altri video su argomenti simili Che cosa è successo? Praticamente il tutto è iniziato quando una stylist che ha lavorato per 15 anni Come stylist nell'ambiente principalmente K-pop Se n'è uscita con un post su Instagram nel quale praticamente faceva una denuncia Non tanto precisa perché infatti il nome di questa persona non era nemmeno stato citato Tuttavia le parole che ha scritto hanno diciamo fatto parlare molto Adesso vi andrò a leggere il suo commento e poi ne discuteremo insieme Oggi mi sono ritrovata in una posizione di inferiorità Come se qualcuno mi avesse camminato sopra Anche prima di incontrarla avevo già sentito da altre persone Che sarei dovuta essere mentalmente pronta per questo incontro Oggi è come se mi avessero dato una scarica elettrica E ho perso la capacità di parlare Sono rimasta lì come se le mani, piedi e cervello fossero regati Mi sono sentita come se non potevo fare nulla Di fronte a qualcuno che mi guardava con una tale distanza Mentre io rabbrividivo È stato un duro colpo Mi ha lanciato delle pugnalate sulla lingua Fino a farmi piangere Non riuscivo a pensare che mi stesse davanti Non riuscivo proprio a controllare le lacrime E infine a questo post ha inserito le tag Psycho e Monster Tutti hanno fatto riferimento alle Red Velvet E in più ha anche rimosso dei post In cui venivano citate Irene in particolare E anche un altro componente Come se non bastasse A ciò si è aggiunta l'aggravante Che ci sono state una serie di persone Comunque che lavoravano nell'industria Che hanno messo like al tweet E condiviso il loro support per questa stylist Tra cui i branch coreani della rivista Vogue, Marie and Claire, GQ, Exquisite, Allure, Beauty Plus Eccetera eccetera Tuttavia vi dirò la verità Il post è stato eliminato Quindi non posso confermare Se veramente hanno messo like o meno Magari poteva trattarsi semplicemente di account fasulli Io infatti già ne volevo parlare di questa cosa Però che cosa è successo? Che questa stylist comunque ha parlato di questa cosa E è stata anche molto attaccata online Appena se ne è uscita con questa storia E la gente ha iniziato a scrivere cose come Non è possibile che sia vero Comunque Irene è una specie d'angelo Ha fatto tantissime cose buone in passato Poi fatemelo dire Sinceramente voi non conoscete quest'idol Quindi non potete sapere se è veramente un angelo O se è una specie Ci sono anche degli youtuber Che magari non lo so Su internet sono tutti buoni e coccolosi E poi li andate a conoscere veramente E invece sono tutt'altro Ve ne parlo proprio per esperienza personale Ma non ci sono neanche rimasto male Perché io ho avuto Una vicenda che è successa comunque In queste ultime settimane Il punto è che non è che Mi puoi trattare come spazzatura O chiunque Comunque anche se hai avuto una giornata no Stai vedendo le persone Che comunque ti possono aiutare In questo tuo percorso Non ti dà il diritto di trattare le altre persone Come se fossero spazzatura Questo secondo me Proprio il rispetto che deve esserci tra persone Deve essere alla base E questo non si ha solamente nel mondo degli idol O di youtube Ma si ha anche con persone Magari che potrete incontrare nella vostra vita Cioè io ve lo dico Vi preparo al mondo Perché questo vi succederà Cioè io sono una persona Che cerca sempre di vedere il positivo In tutte le persone Però mi sono arrivate tante di quelle mazzate Che ci sono alcune persone Che gli dai una, due, tre, quattro, cinque, sei possibilità Alla decima lascia anche un po' perdere Non tanto perché non hai fiducia in questa persona Ma perché hai abbastanza rispetto per te stesso Che vali di più di come ti trattano certe persone Questo è quello che penso io Comunque tornando al topic Si è scoperto che tutte queste speculazioni Che sono state fatte Erano fondate Perché infatti Irene Ha fatto uscire un post su Instagram In cui ha scritto queste parole Questa è Irene Vorrei porre le mie scuse sincere Per aver ferito una stylist Con il mio stupido comportamento Parole e azione Mi sono pentita E ho riflettuto Sul fatto che ho ferito così tante persone Le quali hanno lavorato con me fino ad ora Per via del mio comportamento immaturo Questi recenti eventi Mi hanno aiutato a rivedere il mio passato Mi vergogno del mio comportamento Azione e parole Ora che ho capito l'importanza dello staff Penserò e agirò in modo più cauto in futuro Ed eviterò che ciò si ripeta Porgo le mie scuse sincere A tutti i fan Che mi sopportano A tutte le persone Che sono state preoccupate A riguardo di questo incidente Sembra anche che Questa Irene Abbia anche incontrato la stylist E si sia andata a scusare personalmente Come è stato dichiarato Comunque dalla sua stessa agenzia La quale ha detto Questa è la SM Entertainment Vorremmo commentare l'articolo Che è stato postato Dalla stylist di Irene Irene ha incontrato La stylist di persona Questo pomeriggio E si è scusata sinceramente Per il dolore Che le ha causato Per via del suo atteggiamento Ed esplosione emotiva Ci dispiace molto Del suo comportamento Ci sentiamo i responsabili Per questi eventi Non possiamo dimenticare Il duro lavoro Che lo staff mette Per la nostra agenzia E gli artisti Ci assicuriamo Che cose del genere Non succedano mai più Con nessuna delle persone Che lavorerà con noi Ci scusiamo ancora Io ragazzi Io ragazzi vi vorrei dire Che non sono uno stan Delle Red Velvet Quindi cioè Non le ho seguite In tutto il percorso Cioè avevo letto Vari articoli E varie cose Che dicevano Che comunque Irene in realtà Non sia proprio l'angelo Che cercavano Di farci credere Tuttavia Cioè sinceramente Io non ci ho mai Badato più che tanto Perché comunque sapete È facile su internet Parlare di persone Che non si conosce E dire che in realtà Sono delle persone Orribili È una cosa Molto facile da fare Che però Non ha una base Tuttavia In questa circostanza Come ha confermato Questa Irene Sembra che tutto Quello che sia successo È accaduto Io non credo Che per queste Azioni che le abbia fatto Bisogna cancellarla Assolutamente Tuttavia su Twitter Cosa ho visto Ho visto una reazione Diciamo Un pochino Spropositata Cioè Io ho visto Praticamente Che sono partiti Una serie di Tweets Tutti a favore Di questa ragazza Cioè c'era anche Chi magari voleva Esprimere un giudizio Fare una critica Perché comunque Ci sta che uno dica Scusami Sei una professionista Anche nei giorni No Dovreste cercare Di comportarti In un certo modo Perché Se fosse stato Un caso isolato Vi direi va bene Però c'è stata Quella frase Che mi ha fatto Un po' pensare Perché a Irina Ha scritto Mi sono comportata Così con molte persone In passato Quindi vuol dire Che lei L'ha già ammesso Che lei Si è già comportata Così In varie altre occasioni E penso che L'abbia fatto Anche nell'eventualità In cui comunque Ci fossero altre persone Che adesso Che comunque C'è lo scandalo Si espongano E smascherano Comunque Il comportamento Di questa Irina Quindi è meglio Mettere le mani davanti Dire Si mi sono comportata male Perdono Mi comporterò meglio E secondo me Ci sta Cioè Una può sbagliare Può rimediare Eccetera eccetera Tuttavia Mi sono immaginato La prospettiva opposta E se invece Fosse stata la stylist Che si fosse comportata male Con Irina Secondo me su internet Tutti avrebbero massacrato E ripeto Massacrato Questa stylist Avrebbero parlato malissimo E lei non avrebbe mai E poi mai Potuto più lavorare Nel mondo dell'intrattenimento Quindi un po' Trovo un pochino ingiusto Che da una parte C'è questa Irina Che si è comportata male Comunque per sua stessa ammissione Con varie persone In passato Che lei possa continuare A fare l'idol Felice e contenta E se fosse stata invece Un'idol Che si fosse comportata male Con Irina Probabilmente sarebbe stata Messa all'agonia E io ragazzi Non sto dicendo Che dobbiamo mettere Irina all'agonia In modo più assoluto Anzi Secondo me Sono anche contento Che non è partita Questa strage di hate Che si vede sempre Su Twitter Però vorrei Che se magari In futuro Ci fosse magari qualcuno Che per qualche motivo Attaccasse In un'occasione Magari le Red Velvet O uno di questi idol Che tanto amate Non venissero comunque Distrutti Da internet Perché So che è molto facile Dare oltre Anche davanti A dei fatti lampanti Adesso mi viene in mente Il caso Vabbè Non mi va neanche Di parlarne Però sapete Il caso Di quel club In Corea Sono stati coinvolti Una serie di idol Alcuni anche Con delle prove Piuttosto schiaccianti E anche davanti Ai fatti Ci sono stati comunque Delle condanne Anche davanti ai fatti C'erano delle fan Che le difendevano A spada tratta E io vi vorrei dire Ragazzi Rendiamoci conto Che anche gli idol Sono persone Anche gli idol Sbagliano E non è detto Che gli idol Siano degli angeli Come vogliono farvi credere I media Ragazzi Cerchiamo di Essere un po' critici In alcune circostanze Perché in questo caso Cioè a me Questo comportamento Di Irene Ok Cioè ti dico Sbagliato Fa lo stesso Però diciamo Che non è Un comportamento Molto Kawaii Se volete dire così Cioè Perché a me Una persona Comunque Che si comporta In quel modo Ammesso che si è comportata Così Si è scusata Però Non lo so Io ve lo dico Veramente Da amico Nel senso Vi dico Se mi trovassi In questa circostanza Io mi sentirei così Perché Per fortuna Non ero un fan Di queste red velvet Ma io se fossi un fan Di Irene E scoprissi questa cosa Probabilmente Non vorrei cancellarla Non vorrei mandarle odio Però ne rimarrei Estremamente deluso E non so Se da qui in avanti Potrei guardarla Con la stessa ammirazione Che la guardavo prima Perché per me Al di là del talento Della bellezza Anche Della Diciamo Dell'impegno Che una ci mette A fare l'idol Quando si tratta Di comportamenti Comunque un po' Da bulla Ripetuti Come lei stessa ha detto Diciamo che Trovo difficile Ammirare un personaggio Così Però ragazzi Questa è la mia opinione Ditemi anche voi Che cosa ne pensate Scusate se oggi C'ho un po' di chess in casa E che sto facendo Il trasloco E niente Fatemi sapere Che cosa ne pensate E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao